Musica Lieve crescita dei contagi da covid-19 in Calabria ma sono in forte calo i ricoverati e per il terzo giorno consecutivo anche i casi attualmente positivi. Sempre alto invece il numero delle vittime che nelle ultime 24 ore sono state 10 con il totale che sale a 1826. I nuovi positivi sono 1569 con il tasso di positività che sale al 14,98% contro il 10,75% di martedì. E intanto da mercoledì 26 gennaio sono partiti gli Open Bucks Days non più solo nel weekend dunque ma durante anche la settimana. Sarà possibile accedere tutti i giorni senza necessità di prenotazione ai punti vaccinali distribuiti sul territorio regionale. I prenotati avranno comunque sempre la priorità. Per quanto riguarda i centri dedicati alla vaccinazione della fascia 5-11 anni saranno anch'essi Open nei giorni di apertura, tranne alcune eccezioni dettate dalla necessità di un'efficiente organizzazione. Proseguono inoltre anche le porte aperte negli istituti scolastici in basso e alla programmazione comunicata. Giuseppe Giuliano è il nuovo commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valencia. Andrà a ricoprire il ruolo lasciato vacante da Maria Bernardi dopo la recente nomina direttore di settore dell'area programmazione ospedaliera della regione Calabria. Giuseppe Giuliano manterrà anche la carica di commissario dell'azienda ospedaliera Materdomini di Catanzaro. L'ufficialità dell'incarico è giunta con un decreto firmato dalla governatore della Calabria occhiuto nelle vesti di commissario ad acta per la sanità. Per Giuseppe Giuliano si tratta di un ritorno in terra vibonese. È stato infatti già alla guida dell'ASPA di Vibo dalla gennaio 2020 al gennaio 2021, proprio prima di tornare a Catanzaro. Un evento televisivo che andrà in onda in diretta su Rai 1, una vetrina internazionale alla mostra delle cinema di Venezia. Il premio Riace nel contesto della festa del cinema di Roma è ancora un convegno di studi nel segno dei bronzi. Un percorso multimediale bronzi 5.0 con poste italiane, Ministero dello Sviluppo Economico e anche la realizzazione di un francobollo commemorativo di Riace 50 sono le iniziative messe in cantiere in vista del cinquantenario del ritrovamento dei bronzi di Riace avvenuto il 16 agosto 1972 nelle acque della cittadina Ionica Regina. A progettarle e a proporle alla Regione Calabria è stata la fondazione italiana incaricata dal Comune. Alcuni uffici del Dipartimento regionale dell'agricoltura saranno decentrati a Crotone, Cironmarine e Petila Policastro in totale 15 posti di lavoro che saranno coperti dagli ex lavoratori del Corap, il Consorzio regionale delle attività produttive e in via di liquidazione. Lo ha annunciato il Presidente della provincia di Crotone, Sergio Ferrari, nel corso di un incontro con l'Assessore regionale dell'agricoltura Gianluca Gallo. Si fa sempre più esplosiva e pericolosa la situazione nella tendopoli per migranti a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro nella struttura in cui sono state realizzate abusivamente anche alcune baracche in legno vivono attualmente secondo stime della Polizia rispetto a una capienza massima fissata in 300 persone 350 migranti africani, molti dei quali impegnati nei lavori agricoli ed altri in attività di fortuna. Il Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, è impegnato per garantire un presidio di forze dell'ordine e vigili del fuoco che più volte hanno evitato strage a causa di tanti incendi che sono verificati. E proprio il Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, ha affermato la tendopoli per migranti di San Ferdinando sarà smantellata. Queste le dichiarazioni del Prefetto dopo aver concluso un giro di consultazioni con la Regione Calabria, di Comune di San Ferdinando e di Gioia Tauro e sentire le organizzazioni che si occupano di assistenza ai migranti. Aspettiamo che la Regione Calabria, aggiunge Mariani, metta a disposizione i fondi per avvarare un progetto di accoglienza e di residenza utilizzando alcuni beni confiscati. L'idea di fondo resta quella di offrire ai migranti strutture di residenza che assicurino dignità. La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato due società, l'imprenditore Antonino Raso residente a Genova ma originario di Cittanova in provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento è stato emesso su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria. A Raso a novembre erano già stati sequestrati i beni per 2 milioni di euro. L'imprenditore era stato arrestato nel 2016 nell'ambito dell'inchiesta Alchemia in quanto gravemente indiziato del reato di associazione di tipo mafioso quale partecipe di una notissima cosca andranghetistica delocalizzata nel territorio Ligure. Il Tribunale di Palmi lo ha assolto nel 2020 per non avere commesso il fatto. Il Tribunale di Reggio Calabria tuttavia, su proposta della Procura Regine a seguito delle approfondite indagini patrimoniali effettuate dalla DIA, ha disposto il sequestro ritenendo il soggetto caratterizzato da una pericolosità sociale qualificata. La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura, ha perquisito le abitazioni di 20 persone in diverse regioni d'Italia, ovvero Toscana, Emilia Romagna, Campania e Calabria, nell'ambito di un'inchiesta sul contrasto al fenomeno della pirateria audiovisiva perpetrata tramite IPTV. I perquisiti sono indagati per il reato previsto all'articolo 171 terra della legge sul diritto d'autore perché a vario titolo provvedevano alla generazione e alla distribuzione dei flussi IPTV illegali. Dopo un primo intervento nel settembre 2020, i finanziari del nucleo di polizia economico-finanziaria sono riusciti a individuare e inibire una nuova serie di accessi a piattaforme non lecite utilizzate da mezzo milione di utenti. Due entrate ed un'uscita per l'FC Crotone che ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo alla Pisa con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi determinate condizioni il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Ahmad Ben Ali. Il giocatore anglo-libico lascia i pitagorici dopo 5 stagioni condite da 95 presenze e 15 reti e dopo aver emesso in bacheca una promozione in Serie A nel 2019-2020. In entrata invece il Crotone ha comunicato di aver acquisito le prestazioni di Ben Elassinecone. Il calciatore è nato il 14 marzo 2000 in Costa d'Avorio, un centrocampista mancino forte fisicamente e rapido. Nella prima parte di stagione ha indossato la maglia del Torino, mentre il 2019-2021 ha giocato in prestito con Cosenza in B. L'altro acquisto è Luca Calapai dalla Catania che ha già preso parte all'allenamento di mercoledì, prendendo contatto diretto con la nuova realtà ed è molto carico per la nuova avventura. Dopo aver fatto il primo allenamento devo dire che ho trovato ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare e ottime persone. Servirà tanto lavoro e sacrificio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, ha detto Calapai, che ascoltiamo. Ti sei allenato con i nuovi compagni, come ti sei trovato in questo nuovo gruppo? Devo dire, abbastanza bene. Dopo aver fatto subito il primo allenamento ho trovato un ambiente con tanta voglia di lavorare e tanti ragazzi bravissimi che si sono messi a disposizione. Arrivi dal Catania dove ci sono alcuni ex giocatori del Crotone, tipo Izco, Clayton. Ti avranno parlato sicuramente dell'ambiente pitagorico? Sì, sì, sì. Loro prima di arrivare qui mi hanno un po' descritto comunque il posto perché appunto loro sono stati qui negli anni passati e mi hanno un po' spiegato l'ambiente, mi hanno dato qualche consiglio. La squadra purtroppo non è in una buona posizione di classifica. Cosa servirà per uscire fuori da questa situazione? Sicuramente serve, come in tutte le cose, tanto lavoro, sacrificio. Senza quello penso che non si possano raggiungere gli obiettivi prefissati. Come stai a livello fisico? A livello fisico sono stato un po' fermo per il coronavirus, quindi sono in una fase dove sto lavorando di più per entrare già in forma. A livello fisico sono stato un po' fermo per il coronavirus.